E adesso Laura Sacco. Da un discorso molto appassionante a uno un po' meno, spoiler, anch'io c'ho gli spoiler. Parlerò di questo argomento per interesse, perché io da poco più di un anno lavoro ad un servizio di supporto e quindi vi parlerò di come il mio cliente ideale dovrebbe essere. E poi devo anche fare coming out. Io non sono il mio cliente ideale, perché di fatto quando chiedo supporto in realtà devo leggere la lista, se no non mi ricordo e vado subito e faccio gli errori che spero che non si facciano più. Cosa ho fatto? Ok. Allora, il problema. Quando è che noi chiediamo supporto per delle... Ecco, intanto l'ambito è supporto dove? Supporto nel campo di internet. Quindi per tutti quei servizi o quei prodotti che voi acquistate, tipo app, per tipo plug-in, software, eccetera. E l'idea di questo talk è nata proprio quando io ho iniziato a ragionare con la testa di chi dà supporto e ho iniziato a vedere intorno a me le persone che ogni volta che usciva un aggiornamento andavano in panico. Quindi ho iniziato a dire, ma perché c'è questo panico d'aggiornamento? Qual è il problema? Il problema è che, come molti di voi io credo abbiano sperimentato, quando c'è un aggiornamento c'è un alto rischio che si rompa qualcosa. Il problema però qual è? Che allora uno dice, vabbè, allora non aggiorno. Questo è un gatto che si morde la coda perché in realtà il non aggiornare aggrava il problema. Per cui non aggiorni una volta, non aggiorni due, non aggiorni tre, ti si blocca tutto. Che sia il cellulare, che sia il telefono, che sia il sito internet. Quindi in realtà l'aggiornamento va fatto. E se si rompe qualcosa? Chiedete supporto. Allora, ecco i cinque suggerimenti che io vi do da supporter per essere il mio cliente ideale. Allora, intanto cercate il posto giusto. Mediamente i gruppi di Facebook non sono il posto giusto. Cosa intendo? Intendo dire che quando voi avete un problema, andate a capire, ad esempio una app, andate a capire chi vi offre, cosa vi offre il produttore, lo sviluppatore di quell'app, che tipo di supporto vi offre. E chiedete a chi l'ha creata l'app, il supporto. Utilizzate un plugin per WordPress free? Vi do una bella notizia. Ogni plugin e ogni tema free ha un suo forum dedicato, gestito da chi ha sviluppato quel tema o quel plugin. Quindi andate su wordpress.org e andate nel forum di quel plugin e chiedete all'autore, perché è l'autore che vi può spiegare qual è il problema. E poi vi do un'altra, vi svelo un altro segreto. Google è vostro amico. Fidatevi. Quindi quando avete un problema, una cosa che potete fare è fare la domandina a Google. Tra l'altro Google, come penso voi sappiate, si sta evolvendo. Quindi oltre alla ricerca vocale, ricerca anche le frasi. Quindi voi avete un problema e dite proprio così. come si fa a risolvere la metabox bianca del plugin Yoast, giusto per fare una cosa interessata, e trovate la risposta, giuro, l'ho provato. Perché? Perché se voi avete un problema, probabilmente anche altri utenti hanno avuto il vostro problema. e quindi c'è già una serie, uno storico di risposte. Quindi cercate il posto giusto dove fare il, e ripeto, gruppi Facebook anche no. Anche se poi c'è Katia che risponde benissimo nei gruppi Facebook. Ah, questa è bellissima. Allora, avete trovato il posto giusto? Fatevi riconoscere. Questo significa dire il vostro nome. Se andate in un supporto free, ok. Se andate in un supporto premium, scrivete qual è il vostro codice abbonamento. Voi dite, eh vabbè, ma io ti scrivo, tu lo sai. No, non lo so. Soprattutto se ad esempio mi scrivete dalla dashboard, noi abbiamo tre posti in cui chiederci supporto. Se mi scrivete, come è facile, dalla dashboard di WordPress, dove c'è un bellissimo punto interrogativo, voi schiacciate lì e a me arriva una email con l'email che voi avete impostato sul vostro sito WordPress, che non è quasi mai, direi per il 99% dei casi non è mai, la mail con cui avete comprato l'abbonamento. Per cui io inizio a interrogare la sfera di cristallo per capire chi siete. Perché se voi avete l'abbonamento e io vi scrivo, scusa, non posso darti supporto perché non è l'abbonamento, come dire, un po' vi girano. Quindi per cortesia scrivete, non date per scontato che chi vi risponde sappia riconoscervi immediatamente. E voi vi direte, vabbè, mi stai dicendo una roba banale. E qua viene il mio coming out. Nel senso che io vi sto dicendo questa cosa. Mi è capitato di recente di chiedere supporto alla mia linea telefonica, al mio gestore telefonico, per un problema che avevo con un'app che mi serve per lavorare, con Slack. Praticamente per una serie di vicende io sono entrata in contatto in DM, quindi in messaggio diretto su Twitter. Ciao Laura! insomma, qual è il tuo problema? Io le ho esposto il problema. Seconda domanda, qual è il tuo numero di telefono per sapere se sei nostra cliente? E io ho detto, brava Laura. E ho detto, touche. Quindi non datelo per scontato, anche se viene facile. Qui c'è questa cosa bellissima. Prima di venire qua, giovedì mattina, ero a supporto e mi scrive un italiano, in italiano, noi diamo supporto in inglese, e mi dice, desidero ricevere supporto premium. Ok, parliamone. Desidero dice, allora, quando voi contattate il supporto, cercate di esporre il problema. Voi dite, certo, ce l'ho il problema, lo dico. No, vi assicuro che nel 90% dei casi io chiedo, scusa, io ti aiuto volentieri, per cortesia, mi puoi dire che quale problema stai avendo? Perché è così? Perché uno in quel momento è in panico mediamente quando ha un problema. Quindi pensa a risolvere il proprio problema e non pensa che dall'altra parte c'è qualcuno che deve capire qual è il problema per aiutare a risolvertelo, no? Allora, ok, è bellissimo dialogare con chi fa supporto perché siamo veramente tosti, cioè, veramente siamo fighi, quindi è divertente parlare con noi, però se voi avete un problema e lo volete risolvere in fretta, scrivete subito qual è il problema. Un aiuto sono gli screenshot. Allora, un sacco di questi app e plug-in, eccetera, sono in inglese. Ovviamente, voi l'inglese lo sapete benissimo, ma quando dovete scrivere un problema andate in panico. No, Dio, come lo fa? Allora, se il supporto è in inglese e voi scrivete in italiano, da noi vi arriva una bella email, a meno che non sia io a rispondervi, una bella email dove vi dice mi spiace, siamo un supporto globale, traducimi la tua domanda in inglese e anche qua Google Translate è vostro amico. Non chiedete scusa del vostro inglese perché non so le statistiche ma secondo me il 99% di chi lavora a supporto non è italiano e non è neanche madrelingua inglese, ok? Per cui probabilmente parla l'inglese peggio di voi. Quindi non chiedete scusa per il vostro inglese, usate Google Translate al limite mettete tra parentesi o ha usato Google Translate. Fine. Ok? È molto probabile che anche noi usiamo Google Translate quindi voglio dire non vi fate problemi. E fate gli screenshot. Quando fate gli screenshot? Please. Faccio proprio il segno. Non fate lo screenshot e poi me lo incollate in un file di Word. Capita. a livello mondiale quindi state sereni non è che siete voi italiani che... No, è proprio a livello mondiale un bello screenshot il Word e io ogni volta che apro il Word inizio a sudare e dico adesso mi manda in tilt il computer perché c'è un virus e io non lo posso aprire. Ecco. No, mandate uno screenshot piuttosto fate una foto col cellulare ci mandate la foto col cellulare va bene lo stesso però è importante per noi capire qual è lo screenshot di quello che voi state vedendo al computer. Ok? Perché ad esempio può essere un messaggio che comparso da una parte vuol dire una cosa comparso da un'altra vuol dire un'altra. Allora il quarto suggerimento è un suggerimento che uno dice vabbè ma che ci stai racconta? Cioè ma possibile? cioè ci devi dire di essere gentili? Sì ve lo devo dire perché perché quando uno è in panico e ha un problema si dimentica e scrive alla tastiera e si dimentica che chi riceve il problema è una persona umana dietro da un'altra parte dietro un altro computer quindi sfoga quando uno scrive un problema sfoga tutta la sua frustrazione la sua rabbia attraverso la tastiera ok? solo che quando io lo leggo leggo il vostro plugin mi ha rotto il sito non posso dire parolacce perché poi i miei figli mi guardano però segue parolaccia capita capita moltissimo ok? voi non mi state aiutando a me è capitato di rispondere a una mail di risolvere il problema con la prima email il cliente ha replicato mi ha dato una pessima valutazione dicendo no non mi ha risposto la risposta era nel paragrafo 2 dopo grazie per averci contattato quindi quando sei in panico non leggi neanche invece voi respirate leggete e ricordate di essere gentili non è necessario fare giri di parole grazie scusa no siate semplicemente molto diretti ma molto gentili perché la gentilezza passa come i sorrisi attraverso le parole Deborah ha iniziato ieri con questo talk quando parlate sorridete perché il sorriso passa nella voce il sorriso passa nello scritto quindi siate gentili perché dall'altra parte ci sono delle persone che rispondono umane che hanno dei sentimenti anche se sono cattivi perché vi lavorano per una roba che a voi si è rotta e infine il quinto suggerimento il quinto suggerimento viene spessissimo trascurato però invece è una grande risorsa allora uno date un feedback a chi vi ha risposto alla fine credo che anche da Siteground se ricordo bene così alla fine dell'email c'è sempre come hai valutato questo supporto great yeah c'è e noi riceviamo un bel 100 good e noi riceviamo 80 o 0 e poi c'è bad e noi ribetchiamo un bel meno 100 no? allora dateci un feedback ci date meno 100 ok diteci perché ci state dicendo che non abbiamo risposto al vostro problema perché questo ci aiuta a migliorarci e poi se avete trovato la risposta questo vale molto per la per il supporto free ad esempio su wordpress.org se voi avete trovato la soluzione a prescindere da chi vi ha dato supporto scrivete qual è la soluzione che avete trovato perché questo aiuta grazie al potente google ad aiutare altri quindi quando voi siete al punto 1 trova il posto se voi fate la domanda e qualcuno ha segnato come ha risolto il problema vi ha già aiutato e voi risolvete una marea e voi risparmiate una marea di tempo quindi 5 suggerimenti sono chiedi nel posto giusto fatti riconoscere esponi il problema usa screenshot ecco usa screenshot anche se non volete scrivere ci mandate lo screenshot capiamo molto di più che se ci fate un pippone di mezza pagina sii diretto e gentile quindi usate la buona educazione e fai sapere se hai risolto il problema e come se non ti abbiamo fornito noi la soluzione ovviamente c'è un fatto extra bonus e l'extra bonus è aggiornate sempre perché come vi ho detto all'inizio il problema è che se non aggiornate non solo non risolvete ma peggiorate la situazione fino ad arrivare ad inchiodare telefono computer sito internet e poi come Angelo ci ha ben detto ieri fate backup cioè siate ansiosi come Angelo fate backup e paranoici come Angelo fate backup grazie Laura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti